Che non so come cazzo si chiama Però vediamo Provo classificato solo 2 Stavo a Madrid senza pc E' una madonna Aridaglie sto smolder Ma che è sto smolder Tutti mi dice prova smolder Prova smolder Ma che cazzo è sto smolder raga Tutti ieri Pure ieri Ho giocato a LOL Ieri prima di andare a dormire E tutti quanti a dirmi Gioca smolder Ma si può giocare giungla? Ma si può giocare giungla? E no mid io non gioco mid top Giungla purtroppo no E appunto niente Mi spiace Però Un bel game di Master Yi Qua non me la leva nessuno Ah Master Yi Mio dio Si si guardi Master Yi Banno Chi banno? A Mumu Mi sta proprio sui coglioni O D'Olaf No A Mumu Un Asus Asus Non lo mangio Dove andiamo Tanto adesso me bannano Warwick E Master Yi Sicuro Guarda Ma perché bannano due jungler Ma perché banano due jungler? Ah no ma ok se può giocare pure top Ok L'oponent ha bannato Rammus Mmm Me buzza Me buzza De Master Yi Questo Me buzza Come si fa qua? Sì è un po' Se Vaffanculo Ok Hearly Herard Babies Ma io ieri l'ho provato ma Alle BCS Solo a me A te Bannavano i due main Che avevamo Eh veramente Giomello Mamma mia Veramente Oh Shaco Shaco Contro Master Yi Come è? No Ocain No Cain support Renekton Vain Ma che cazzo è? Com'è? Master Yi contro Master Yi contro Shaco Ah Allora è Renekton Com'è Master Yi contro Renekton O contro Cain? Cazzo Ma nel dubbio Me li magno tutti a correzione Me li magno vai Eh qua dice che Non è male Come roba Qua ci analizza le cose AP e AD Ok In Irly è difficile In mid pure In Vabbè Gli build Build Quindi se parte con il blu Se parte col blu E La pickaxe Bello No 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 Ma che faccio? Ma che No no Fino al Non lo so Non lo so Fino a che livello Mo' vediamo Mo' vediamo Qua ci vuole un po' De musica Prima di andare a dormire Yo Ciao Caprix Come stai? Madonna Sì 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 A mo ti faccio vedere Che cazzo Dei game Che ti faccio qua Faccio una bella Penda kill qua Sì ma magari Cazzo Allora se parte del blu Diceva La build Sì Parte del blu Non farti Accitare Boh Ma che dè Go first pick Ma che dè Ho già vinta Veramente Meste di questo Minion in azione Un alleato Stato ucciso Non è Via via Allora No way Ma questi cesano Che cazzo Dei Che la colpa Dei La colpa Di un padre eterno Oh guarda là Una madonna Io Perfetto Perfetto Allora Qua Dei un attimo Bello Preciso Così in teoria Dovrebbe funzionare Quando premo Sì Perfetto Perfetto Io Tra poco Pacciano Sto game E yolo Fagli vedere Chi Ah tra poco Pacciano Ma pure se sto In ranked Cazzo Ma pure se sto In ranked Oh la madonna Ma spero De no Cazzo No no Ma qua non succede Niente ragazzi Sto sicuro Oh yeah Non succede Niente Non succede Niente Qua tanto Se vince Basta Sicuro Ok Perfetto Ah ok Mi ha lasciato pure Le cuccioli Ah Mi hanno lasciato pure Il Tanta roba Allora Mi devo ricordare Che c'ho Ok Bello preciso Io Bello preciso 3 minuti e 20 3 minuti e 20 3 minuti e 20 Beh Fa un po' schifo Come roba Però dai Meglio di niente Oh 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 No no Io torno Ok Tanto lì ci stava quello Perfetto Faccio questo qui Come il primo item E via Fist item Preciso All'occhiello Vai Non è detto Che ti chiccano Cioè Hai proprio tempo Hai proprio tempo Per Dell'ultima Ah proprio guarda Proprio A pelo Preciso Eh vabbè Questo però pure Fa cacarcazzo Ecco Già abbiamo uno Che Non sta intanto Ma Faci Io 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 Bello preciso Vai Bello Sette Non farti Accettare Dall'orgoglio Sì ma Ste meccaniche qua Che vengono a Counter Junglar Ma non penso Che ce l'hanno Ok Allora Potrebbero Stare Botta Che fa Sto Game Che fa Ma che D'è Ste larve A che Servono Che D'è Che D'è Ste larve Che Madonna D'è E su Ma questi Proprio Ci hanno Proprio La merda Sullo Cervello Che Che so Le larve Che D'è Mo Ste Larve Che So Andiamo Le larve Andiamo A vedere Che cazzo So Non Gio Lo smite Ce l'ho In delay Andiamo Andiamo A dare Anestone Bello Preciso Vai C'è Una Word C'è Top Why Perché Why 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 Non so Capito Un Cazzo Io Ma Guardate Che Madonna Cioè Che dovevo Fai Lì Potevo Uccidere Ton Sta Pazzesco Che cazzo Gli dovevo Dire Sono Andato Via Come Giusto Che Sia Easy Kill Ma Che Easy Kill Ma Che Easy Kill La Madonna Ma Io Che Ne so Di Come Funziona Easy Kill Worse 3 Ma Che Vuole Ma Che Vuole Da Me Ma Vanno E Mo Fanculo Allora Bello Preciso Vai Io Andiamo A far Red Che dovevo Fai Lì Dovevo Andare Dove Andarlo Kill No Non Credo Non Credo Il Drago Chi L'ha Fatto L'hanno Fatto Loro Come Hanno Fatto Ok 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 GGG First kill E so capito Ma in top porca puttana E là fa carcar cazzo quello Ok Mi so appiccato una bella kill Mida Vai Easy Però dobbiamo Devo cercare De rimanere con i piedi per terra Perché qua mi sa che è persa Io dove sta l'urospu qua In 6 secondi Vabbè Un vero maestro Ma io non so Che cazzo serve Steralda Via via Ma dov'olene Ma porco Niente troppo forti Sono troppo forti Non riesco Non ce la faccio Sono troppo forti Vado a far mai via Un culo a questi Allora Al volo che non riesco Mi conflitta senza senso Vabbè 413 E come cazzo ci siamo andati A 413 Oddio Fa la neve 413 Per il top Un bot Vivente Vabbè Io pure Non è che scherzo Proprio sta 0-4 Che c'è Deve Mette proprio Di impegno Vabbè Ma Ione Potrebbe Vincere pure Da solo Ma vediamo Solo che con questo Ione Madre di Dio Stando ma quello Rimuore Di nuovo Eccolo Un alleato è stato ucciso Oh Ione 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 Madre di Dio Ma che cazzo è questo Ma chi è sto mostro 8-0-1 Sì Hai Prende cedo Non farti Un alleato è stato ucciso Sì Muoiono tutti Muoiono Cazzo La top fa schifo La bot pure La mid Mi pare che Non lo so Ci hanno 4 disi Nentre lo culo Mentre gioca Ma poi come cazzo Se fa Stas 6-19-13-14 Minuti Un alleato è stato ucciso La rabbia dà motivazione senza intento Un alleato è stato ucciso Hai ucciso Un nemico Un erato più Un erato più Un erato più Via via Vabbè quello top veramente C'ha la mamma che non lo so Ma che cazzo d'è Ma com'è possibile Dio Cristoforo Dolorato Ma com'è possibile Mi chiedo io Dai è a 12 Ma che cazzo gli fai a quello Quello c'ha vita proprio adesso Pure Buono Vai Dio Cristoforo Dolorato Ma che 22 Ma che 22 che Ma non stiamo Stiamo a 0 Stiamo a 9,25 No No 22 No 22 Porca troia 25 ce n'hanno di kill Dio santo Ma questa non la recupero in manco Se cala la madonna Ma prega No No Dov'è Dov'è? Dov'è? Chi è Vane Chi è Jinx Chi è Lux Ma non c'è stata una roba Che riesci a vedere da sopra Il champion Chi è? Porca puttana Non si capisce Nella paralisi Non si capisce Cristo Dio Dov'è? Dov'è andata su Caitlyn Ma non si capisce Mamma mia Per questo Dio C'è andata a quest'ora Ora In live Non ho capito Qui in glory Grazie mille del ride Come stai? Grazie mille No 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 Ma chi si arrabbia Madonna Eh qua Ci abbiamo Lugolon Lugolotto Andammo Facci la clip Su tiktok Vai 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 Fate ammazzare Bravo vai Una mente Concentrata Sua persona Serie di uccisioni Interrotta Sì ma io Ma io Che cazzo Pingo Fa la madonna Che cazzo Pingo Fare Quello C'è vita Propria C'è una trappola Della madonna Dov'hai Che ci stanno Tutti qua Che cazzo Gli devi dire Sì a questi Andiamo a combattere Qua Pure Ma non c'è Credo mai Nella vita Carneficina La tua torre È stata distrutta Ferro 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 Sono ferro Ma si vede Che so ferro Tutto si vede Il cazzo Gli non vuole L'aprio Veramente Adesso Ci sono fatto Caso Via Ma non Prio Dai Ci stanno A trollare Tutti Dai Ma che stanno A trollare Sto game Dai Che cazzo È Ma è una trollata Di merda Che cazzo Lo smite Della disperazione Guarda un po' Come si fanno A ammazzare Guarda come si fanno A ammazzare Ma so sicuro Che si fanno A ammazzare Porca puttana Sbagliacci Porca De quella Troiona Dov'ai? Non si può Fa niente Ragazzi Cioè 14 42 Ma che cazzo Cioè 14 42 Quello Stava 0 8 Ma io Li reporto Tutti Ma stacendo Non deve Nemmeno esiste Ma dai Ma come no Guarda che bannano Bannano Fidate Bannano Bannano Io li reporto Do sta E se li voglio Se li volessi Riportare Dove devo andare Ah Classifica Allora Prima cosa Ione Feeling Intenzionale Poi No Pantheon Era pure Abbastanza Braveto Jin Pure Casa In Ma io Li reporto Tutti Vaffanculo Li reporto Tutti Quanti Uno per Uno Vaffanculo Tutti 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 Li reporto Tutti Vaffanculo Feeling Intenzionale Via Feeling Intenzionale Via Io Tutti Vaffanculo Via Tutti Quanti Uno per Uno Tutti Che dè qua Tutti Quanti Testa Di Cazzi Vaffanculo 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 Vaffanculo